Amici telespettatori, un cordiale salute ben trovati da parte di Alessandro Santarelli e Piero Giambruni. Dallo stadio Porta Elisa di Lucca, praticamente per tre quarti a Maranto, va in scena il derby tra Livorno e Luchese che vedrete adesso scendere in campo. Livorno in maglia bianca, calzoncini bianchi, maglia rosso-nera per la Luchese avete visto in apertura. Le immagini della curva alla destra della postazione alla quale vi sto parlando, stipata, non c'entrerebbe nemmeno un capello, come si suol dire, ma non solo. Perché la tribuna distinta alla destra sempre della postazione è interamente occupata, sostenitori del Livorno, insomma stanno almeno 5.000 i livornesi arrivati quest'oggi a Lucca per questo derby. Subito le formazioni in campo, poi la presentazione del nostro Piero Giambruni. Livorno in campo con Ivan Melare e Martino, Gelsi, Fanucci, Vanigli, Ruotolo, Piovani, Alteri, Protti e Saverino. In panchina per il Livorno, Melia e Basso, Chiellini, Doga, Perna, Scichilone e Stefani. Risponde a Lucchese con Gazzoli, Calanchi e Ferracuti, Pessotto, Varaldi, Citterio, Crivari, Mariani, Miquini.